Sostegno economico da parte delle aziende del settore dell'automazione Facultimista con bilanciamento tra mondo accademico e mondo aziendale Stage di 720 ore presso le più prestigiosi aziende del settore Questi punti di forza del MEMA Il nuovo master universitario di secondo livello in meccatronica and management Progettato in collaborazione con Festo, Pameccanica Data e Gruppo Lozioni Che hanno erogato i contributi per garantire 14 borse di studio a copertura totale del master Il master in meccatronica e management mette a disposizione 14 borse di studio Per 14 ingegneri, giovani ingegneri promettenti che vogliono entrare in questo nuovo mondo E accettare le nuove sfide della meccatronica Il master è bilanciato tra competenze di tipo tecnico Potremmo definire le technicality per l'automazione Con competenze di tipo relazionale e manageriali Le competenze di meccatronica, che sono quelle necessarie per questo tipo di disciplina Non vengono insegnate o vengono raramente insegnate all'università Si trovano facilmente ingegneri meccanici, ingegneri elettronici o elettrotecnici Ma non meccatronici Insieme agli amici della LUC abbiamo deciso di investire in questa iniziativa Che consideriamo strategica per il successo delle aziende italiane nei prossimi anni Il master richiede un impegno full time per un totale di 450 ore d'aula e 720 ore di stage Che si svolgeranno presso importanti aziende del settore Per maggiori informazioni e prescrizioni visita il sito www.master.luc.it Le iscrizioni del master sono aperte fino al 20 luglio Il master avrà inizio il 4 ottobre 2012